Sono in corso le prove per la 24esima sfida scacchistica che si terrà in piazza Gio Leonardo di Bona a Cutro, domenica 28 agosto, con personaggi viventi in costume d'epoca in memoria della storica partita a scacchi alla Corte di Spagna, con il cutrese Gio Leonardo di Bona, detto il Puttino, che divenne il primo campione del torneo di scacchi d'Europa e del mondo. I gioielli dei figuranti sono stati realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, che abbiamo sentito ai nostri microfoni. Quando si parla di Cutro si parla di una città che mi sta veramente molto a cuore, perché mia nonna è originaria di Cutro e poi ho avuto il piacere di essere stato anche, di aver ricevuto anche il conferimento delle cittadinanze onorali, per cui mi sento parte di questa bellissima città. Qui mi lega anche l'amicizia di tante persone. Sono onorato ovviamente di poter contribuire mai da diversi anni a questo grande evento che rappresenta veramente l'eccellenza della nostra terra, della partita di Scacchi Viventi, che quest'anno giunge alle sue 24esime edizioni. Io sono onorato di poter impreziosire le dame, il re e tutti i personaggi che faranno questa bellissima sfilata con delle mie creazioni, creazioni che sono state realizzate interamente a mano, sia con pietre preziose ma anche con elementi magno-greci e bizantini. Per cui ecco, che ben vengano questi eventi, eventi che rappresentano quel lato positivo della nostra terra che ne ha veramente tanto bisogno. E di questo voglio fare i complimenti a tutta l'organizzazione, in primis al mio amico Salvatore Perri, che mi lega una grande amicizia, e a tutti coloro che quotidianamente si impegnano per portare Cutro e far vedere quel lato bello di questa bellissima città. La serata sarà condotta da Luigi Grandinetti di La CTV. Insieme a Francesca Carolei, Miss Calabria 2021, che per l'occasione indosserà un abito realizzato dallo stilista cutrese Salvatore Macri. Grazie al Comune di Cutro per questo invito meraviglioso e grazie a Salvatore Perri, che è il sesto anno che mi invita a questa serata meravigliosa, che è la serata degli scacchi di Cutro, tutti la conosciamo, non solo importante per il nostro territorio ma anche a livello internazionale. Ho onorato di vestire Francesca Carolei, la Miss, ospite di quest'anno, e ho scelto un abito dorato, genere romantico, spero sicuramente sarà indossato all'altezza. Potete vedere la diretta in streaming sulla pagina Facebook Marchesato News. Alpiere di regina, cattura pante di re! Reggina, cattura pante di re!